Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa strepitosa puntata di Lolletta 5 Channel con i muratori sempre di sottofondo che li vorrei uccidere, vorrei strangolarli e l'uno nel cuore della notte, benvenuti in questa nuova puntata allora oggi siamo esattamente il 14 settembre del 2023 ripeto 14 settembre, so che i vecchi video sono stati girati tutti quanti in estate per lo più ad agosto mi sono presa all'incirca 2 settimane, 20 giorni di tempo per potermi riposare devo parlare più alto di questi muratori di merda che ci sono qua di fronte che ripeto a dire, stiamo costruendo case insieme praticamente cioè, quando sarà tutto finito vorrò suonare alla porta e dare un mazzo proprio di fiori in senso, ah, perché io penso che starò qui ancora in questa casa un bel po' di tempo e quindi vedo l'ora che insomma che è il termine detto a ciò queste stronzate mi vedete di nuovo con la maglietta scollata stamattina è uscita con una magliettina normale dell'Armani ma ho sentito un botto di caldo sono sistemata stamattina qua e l'eserci con un nuovo favoloso taglio di capelli rasatori rasare, beh per rasare, insomma, i calte capelli però è piccolino e quindi io uso una specie di microtouch e niente, taglio abbastanza bene, devo dire, per settevolo dai cinesi conviene, è molto bello, molto figo mi secca per alzarmi però, niente, detto ciò, gli ultimi video non so quali siano stati comunque, tipo, le mie disavventure amorose e robe varie mancano meno di dieci giorni nel concorso canoro a proposito del concorso canoro ho comprato questo fantastico microfono che tanto fantastico non è per colore fucsia di merda che ho comprato dai cinesi ma a sti cazzi cioè mi sono resa conto che era dopo fucsia e quindi va bene molto carino ci sono varie cosine e poi una cosa divertente è il mix finitela non esistete solo voi in questa strada ci sono pure io merda e niente poi si può fare voce normale? voce normale, eccomi qua comunque il concorso canoro sarà esattamente il 22 settembre sempre a CT ora, se francesco, uno dei due mi devo portare perché devo farmi i fotevide ovviamente che poi metterò ben sul canale, non lo so se lo posso fare, penso di sì monte premi in pali sono 10.000 euro se passo questa primavera official selezione andrò a Repubblica di qualche cosa che non mi ricordo comunque sempre in Italia se passerò alla seconda selezione vincerò i soldi io sono nella sezione cantautore la canzone l'ho scritta interamente io con una base musicale fatta totalmente al piano da un'amica di mia amma che è molto brava lei è insegnante di musica e mi sono dilettata con lei praticamente tutta l'estate a cantare ultime news sto scrivendo un nuovo libro un libro dedicato a mia madre dei suoi vecchi cari diari del suo passato fin quando è arrivata insomma purtroppo alla sua morte raccontando in qualche modo tutta la sua vita da quando era adolescente da quando poi si è sposata a quando poi siamo nati noi io e mio fratello insomma tutti i vari inciuci quindi un primo vero libro official sempre della casa editrice di Roma Dandebus che vi saluto il secondo libro che faccio con loro vi ricordate l'anno scorso un anno spaccato a novembre ho fatto la prima edizione di poesie collana con altri sette autori molto bellina non ha riscontrato tutto questo un gran successo devo smindare il pista così ma è è un'altra cosa ora sto spendendo un bel po' più di soldini e arriveranno a casa addirittura 100 copie ho comprato un nuovo computer portatile usato a 40 euro che bene o male funziona alla grande ho comprato il nuovo harddisk che spero che mia cucina mi metterà il più presto perché già mi stuffai mi hanno bloccato la carta post pay perché sono stata vittima di una truffa questo ve la devo raccontare sono andata alla posta e ho scoperto che mi hanno troppato più di 100 euro state attenti si chiama Varsav.com del grande della Polonia e da Varsavia e mi hanno fatto più di 100 euro ho dovuto fare la denuncia dai carabinieri ho dovuto richiedere l'inborsa e portare la mia carta post pay e l'evoluzione state attenti mi hanno tolto soldi soldi che non avevo fatto totalmente io non ho fatto nulla su internet e mi sono comprati acquisti online quindi state veramente molto attenti perché è molto pericoloso non mi era mai successo in tutta la mia vita e adesso è successo questa mi mancava ho fatto la mia prima denuncia dai carabinieri ovviamente tutto sola perché mio padre è sempre un ologramma e quindi però dai ci sta tutto sola dalla serie io me la canto e io me la sono infatti è fantastico è stato molto bello dopo essere stata mollata da un 26enne mi hanno clonato la carta sono le cose negative le cose positive infatti sono queste due che a breve partecipro a questo concorso canoro e sto scrivendo il mio nuovo libro i miei vicini mi odiano ancora di più perché praticamente a cantare da tutta l'estate sempre la stessa canzone tipo per due o tre volte al giorno sperando di non fare troppo appunto ma la compassa adesso voi vi chiederete che fai oggi? bene oggi farò il pomeriggio stasera finalmente esco dopo un po' e ci è stato qualche ritorno di fiamma che la mia ex è tornata a scrivermi siamo uscite insieme io ci ho riprovato ma senza successo perché non lo so continuo ad avere molta paura e non sapevo guida e niente mi sembra che abbia detto tutto e guardando l'applicazione robe vaghe non sto assolutamente facendo nulla perché mi sono stufata proprio cacate il coglioni mi sto dedicando a come vedete a me stessa tra la musica il canto e la stesura del mio nuovo romanzo ho sistemato qua dietro un po' di roba bellina bellina come vedete ma forse ve l'ho fatta da te già l'altra volta niente poi solite acquisti solite cose niente da breve a breve su amazon prenderò delle nuove cosine che mi serviranno e finalmente ho concluso la cosa della carta documentazione e applicazione robe vaghe mi è arrivata a casa la carta nuova finalmente ce l'ho sti cazzi la savia perché io le winzi sempre buttano quindi niente e detto ciò salutiamo insieme i muratori che hanno partecipato a questo video fantastici veramente testa di cazzo e niente per non spoilerare tutta la canzone che comunque può uscire che credo che uscirà comunque sul canale adesso ricando brevemente il ritornello della mia nuova canzone che si chiama go away andare via dedicata ovviamente la mia ultima ex e a tratti sette frasi anche a mia madre quindi è una canzone molto triste io da te le mie insegnanti di canto metti tutte le note più triste deludenti brutte che potrei mettere per fare una canzone proprio triste proprio triste e spero di trasmettere questo grazie a tutti ovviamente a cappella perché l'audio ce l'ha nel telefono tu dove sei a me perché eravamo solo noi in un campo di rose tu dove sei a me perché eravamo solo noi in un campo di rose poi le tenebbre mi rapirono chiusi la porta del cuore rose nel vento foglie di poesia resterai per sempre mia 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 allora questo è il ritornello con la parte finale non spoiler già vi ho spoilerato anche troppo va bene ragazzi niente ci vediamo al prossimo video spero che questo video aggiornamento di l'oletta farcià nel settembre 2023 vi sia piaciuto niente vabbè ho fatto un po' di spostamenti qua nella stanza ho fatto tutto ho fatto una stanza più adulta ho sistemato le cose tipo così ecco cioè tipo così questi li ho messi qua con la mia collezione di vinili e cappelli cappelli e niente vabbè varie ah e ho fatto il mio primo straordinario al lavoro ora vediamo un pochettino quando me lo pagheranno e niente basta sono rotto i coglioni che si sono rotto i coglioni